Sulle note della banda della Prologo di Fiumicino è stato inaugurato il cantiere per la realizzazione dell'auditorium del mare che sorgerà nell'area dell'ex centrale Enel ad Isola Sacra. Un percorso iniziato ormai sette anni fa con la partecipazione al bando periferie, l'acquisizione della centrale, la progettazione e l'affidamento dei lavori per un qualcosa di importantissimo per la nostra città, un polo culturale che ai suoi 30 anni, ai 30 anni della nostra città era giusto che arrivasse, era giusto che venisse donato. Il progetto che nasce nel 2016 con l'acquisizione da parte del comune di Fiumicino del manufatto ideato dall'ingegner Riccardo Morandi per 600 mila euro è finanziato con 11 milioni di euro di cui 6 derivati dal bando periferie. Una volta terminata la ristrutturazione l'auditorium potrà contare su una sala di circa 500 posti modulabile a seconda delle diverse esigenze. Saranno infatti ospitate performance teatrali, concerti, conferenze, feste ed eventi. Diventerà un grande polo per la cultura, un grande polo per i giovani e naturalmente per tutte le persone che vorranno passare, vedere una mostra, sentire musica. Sindaco lo sa i fiumicinesi sono come San Tommaso, quando si prevede il taglio del nastro, l'inaugurazione? Beh, intanto possono vedere l'inaugurazione del cantiere. Ovviamente questo è un cantiere un po' particolare perché stiamo parlando di un auditorium, quindi non stiamo parlando di cemento armato, di una strada, di un fabbricato qualsiasi. Significa fare un intervento di qualità all'interno della struttura, molto tecnologico e quindi perlomeno due anni e mezzo di cantiere se li prende tutti quanti. Presente al taglio del nastro insieme ad una delegazione dell'amministrazione di Fiumicino, alle forze dell'ordine e diverse associazioni locali, anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha parlato di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio con uno sguardo al futuro. La scelta dell'amministrazione, del sindaco, è sicuramente il più importante intervento nella provincia di Roma da almeno 10-15 anni nel campo della cultura. È un grande investimento anche nei confronti dei giovani, poi è anche un bellissimo recupero di rigenerazione urbana. Questo è uno degli esempi che si deve eseguire per fare buona amministrazione. È partito quindi il countdown per l'inaugurazione di un polo culturale che si candida ad essere tra i più importanti del litorale laziale. Da Fiumicino per Canale 10, Francesco Ferraro.